Mille occhi sulla città, questo il progetto di sicurezza presentato oggi dalla Prefettura di Chieti e che coinvolgerà anche altri importanti centri come Vasto, Francavilla al Mare, Ortona, San Salvo, San Giovanni Tiatino, Atessa, Guardia Grele in collaborazione con gli istituti di vigilanza privata. Innanzitutto il fatto che abbiano diritto pressoché tutti i comuni sopra i 10.000 abitanti, questa è veramente una novità assoluta. Per quanto riguarda i protocolli in particolare, noi sappiamo che una delle attività preeminenti che svolgiamo è quella di controllo del territorio e sicuramente poterci avvalere in questa attività anche dell'ausilio, dell'aiuto, della collaborazione degli istituti di vigilanza dà veramente quel qualcosa in più di cui abbiamo tutti bisogno. Loro svolgeranno normalmente la propria attività, nel corso della propria attività dove dovessero riscontrare e vedere degli elementi o delle situazioni che possono far pensare alla commissione di reati o anche a situazioni di degrado urbano, ecco, in quel caso le segneranno tempestivamente alle centrali di polizia per un intervento. Tutte quelle situazioni dalle quali possano poi insorgere degli elementi delittuosi, delle attività delittuose, per cui banalmente se ne avessimo in una città una zona nella quale non funziona illuminazione pubblica, ecco, lì potrebbero esserci delle attività illecite. Allora sicurezza urbana vuol dire attivare l'illuminazione pubblica affinché non ci sia quella situazione dalla quale possa poi discendere un'attività illecita. Ai sindaci consiglio ovviamente di prestare la massima collaborazione agli istituti di vigilanza perché la logica del protocollo è una logica di cooperazione tra istituzioni e soggetti privati. Quindi sicuramente lavorare sulla cooperazione, anche facilitando quella che è l'attività degli istituti di vigilanza consentendo il passaggio nelle ZATL senza particolari oneri.